Musica Abbiamo iniziato la nuova settimana che ci porterà a giocare questa semifinale Credo che sia doveroso prima di iniziare a guardare Reggio Emilia a dire due parole sul quarto di finale con Pistoia Ci ha fatto raggiungere un risultato importantissimo perché entrare nelle prime quattro, giocarci in una semifinale scudetto Dopo aver partecipato al finale di Coppa Italia è veramente tanta roba Sono state tre partite di cui sono particolarmente soddisfatto Perché abbiamo giocato due partite in casa di grande presenza Dando un'indicazione forte proprio sul gioco Dove tutto quello che abbiamo provato in allenamento Tutto il piano partita si è poi verificato E a mio avviso la partita di Pistoia dove c'era tantissimo da perdere Loro avevano l'ultima carta da giocarsi Un'energia incredibile, un palazzo che è veramente molto caldo Siamo stati bravi fino alla fine E chiaramente anche fortunati perché poi quando si vince così si vince anche per episodi Però con grande carattere credo che ci abbia dato un buon futuro Nel senso che sia noi che Reggio Emilia a questo punto abbiamo una settimana per preparare la partita di Reggio Emilia E' chiaro che andiamo a giocarci una semifinale contro una squadra molto forte Una squadra che l'anno scorso ha perso il titolo per un secondo, per un canestro, per una piccolezza E' una squadra che ha dominato contro Sasser in maniera netta Spazzandola via senza neanche pensarci due volte Hanno aggiunto questo playmaker che aumenta le rotazioni degli esterni Da tanta fisicità Hanno mantenuto l'ossatura di questo gioco Dell'allenatore forse di cui si parla troppo poco che è Max Menetti Io invece penso che con una programmazione societaria Abbia veramente dato dei risultati molto alti Vincendo prima la Coppa due anni fa Giocando una finale scudetto l'anno scorso E quest'anno comunque arrivando ancora in semifinale E' una squadra molto temibile sotto il punto di vista offensivo Noi dovremmo essere molto bravi a capire che cosa fare Che cosa lasciargli, cosa concedergli e cosa no Cercare di andare con obiettivi molto chiari E' una formazione che ha oltre a avere tanti punti nelle mani A questa particolarità di poter ruotare 11 uomini Senza nessun tipo di problema Utilizzando l'Avrinovic con il contagocce Per quando gli serve Perché è come il vino pregiato Di quelli proprio di grandissima annata E tanta tanta energia E' chiaro che noi vogliamo passare il turno Perché Ecco tutte le mie belle parole Poi Diciamo me le ero preparate Perché credo che sia giusto Dare un riconoscimento A quello che noi abbiamo fatto fino adesso Però Noi vogliamo passare il turno Vogliamo provare a andare in finale Sappiamo di giocare probabilmente Con un po' di sfavore Perché Il fattore campo è per loro Perché sono stati più continui di noi Perché noi abbiamo fatto le prime 13 gare Ne abbiamo perse 8 Abbiamo vinto 5 Ecco poi dopo Se fosse iniziato il campionato Ovviamente eravamo primi Però C'è stato questo periodo di assestamento iniziale Con tanta sfortuna Con Giovanni Pini fuori Con gli infortuni dei due plemec Con le sostituzioni Con un gruppo nuovo Invece loro erano Un gruppo molto consolidato Però il fattore campo è loro E il fattore campo a Reggio Emilia Questi hanno perso due partite in due anni Se non erro In casa È chiaro che è un fattore campo molto importante Però Noi dovremmo essere molto bravi E sicuramente Non siamo Siamo contenti Ma vogliamo fare di più Insomma Che non siamo sazi Di quello che noi abbiamo fatto Ci sarà un fattore campo Da ribaltare E c'è da mantenere Il nostro fattore campo In maniera molto importante Per poter avere la chance Di poter giocarsela là Ecco la cosa Che dirò E che dico alla squadra È il fatto che Questa è una mia Fissazione Possiamo andare 1-0 2-0 per noi 1-0 2-0 per loro Non cambia niente Ogni partita Fa storia a sé Si riazzerano le emozioni La serie è molto 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 Lunga E quindi Veramente Credo che Oltre alla capacità fisica Tecnica Tattica Dei due staff Che si fronteggeranno Anche sotto questo aspetto Io credo che L'azzeramento Delle energie nervose Ricominciare sempre da capo Senza mai pensare A dove potremmo andare A cosa potremmo uscire Allora Siamo contenti uguali Credo che Veramente Questa sia La cosa più importante Di tutte Un allenatore Di solito Facciamo un bene Quando sbagliamo Il meno possibile Ecco già Io dico che Soprattutto quando Facciamo il settore Giovanili È un bravo allenatore Ma quanti danni fa Pochi È già bravo Io dico che Noi già Quando facciamo pochi danni Siamo già bravi In quel caso lì È stata una rimessa Studiata due settimane Prima Dall'inizio del playoff Per un tiro Nei pochi secondi L'abbiamo Ritirata fuori Nel momento proprio Che ci serviva Tre secondi E qualche cosa È bello poi Quando disegni Viene proprio come Tu la vuoi Ecco lì hai In verità È un gran culo Ecco Però ti pensi Di essere bravo Ecco In verità Già che figata Che ho fatto Poi Dopo In verità Passava di là Dice Cazzo di rimessa È questa qui Però Ti dà soddisfazione Perché vuol dire Che Intanto hai fatto Una cosa giusta Ma soprattutto Come dici tu L'hanno eseguita bene Con grande fiducia Come è stata Con grande fiducia Poi I due canessi Forse più importanti Quello di Joe Dove gli avevano tolto La mano sinistra Fino a quel momento Invece Abbiamo fatto Un gioco particolare Dove loro Per forza Dovevano dargli La mano sinistra E lui è riuscito Ad appoggiare La tabellone Quella dell'impatto E come La squadra Ha creduto Di dare la palla A James In isolamento Io ritornando indietro Dico che Non sono stati bravissimi Però ci hanno anche Dato una bella mano A giocare contro Tre piccoli Gli ultimi tre minuti Noi Ci siamo guardati E andiamo la palla Un po' sbasso A James Tutte le volte Che fino a quel momento Non aveva brillato Il fatto che La squadra Abbia riconosciuto In lui Quello che ci poteva Far vincere Dopo una prestazione Abbastanza opaca Abbastanza Credo che sia Un segnale di forza Da parte della squadra Quindi questo Insomma Ci fa grande piacere Anche proprio L'averla Voluta chiudere C'era questa grande voglia Da parte della squadra Di tornare a casa Per pensare poi A Reggio Emilia Quindi questa Isolazione Sicuramente Ci fa Ci fa molto piacere No ma io credo che Non entro in questioni Di Di biglietti Di percentuali Un tempo c'era Che dovevi mantenere Il 10% Adesso forse Non c'è più Io non ho ancora capito Quindi Faccio allenatore C'ho già i pensieri Miei Però ecco È un po' È anche un po' Un dispiacere Non vedere due tifoserie Nella stessa palazzo Anche con percentuali Chiaramente diverse Però credo che sia così Io Io vorrei solamente Una quarantina Di persone da Cantù Che volevano venire Da partita Quindi ho dovuto dire A tutti Di rimanere a casa C'è questo fattore ambientale Dove devo dire la verità Se avessimo perso Magari sarei qui a dire Diversamente Però il fatto Di aver giocato a Pistoia È un bel allenamento Stessi colori Stesso clima Quindi sappiamo benissimo Di andare in un palazzo Così caldo Come hai detto tu Fisico Lucidità Energie nervose E anche quella voglia Di andare là A dire C'è uno sforzo in più Da fare Isolarsi da tutto il campo Là Qui dobbiamo tenere Il fattore campo È che non è facile Perché loro comunque Sono A Sassar Hanno fatto una partita Pazzesca Però Credo che non ci sia Discussione Sul Tutto esaurito Qui Insomma È una bella È bello Vivere questa parte Di storia Ecco Per noi Che facciamo Questo lavoro Credo per tutta La tifoseria Per tutta l'Irpinia Però Per noi Che Io sono rimasto qua Fino alle 10 10 e mezza A vedermi dei filmati Di Reggio Emilia Poi però Avevo troppo sonno Ma È quello che ci siano Delle energie Che queste cose Ti portano Ancora di più E noi Credo che abbiamo Dei giocatori Con una buona mentalità Quindi Non ho troppa paura Di questo Chiaro che sappiamo Che è molto difficile Secondo te Dopo aver ti incontrato No Io dico in maniera Molto più generale Poi io ce l'ho in testa Bene Cosa vorrei dire Però È la gestione Del ritmo Importantissimo Cioè È la gestione Di quanti possessi Andiamo a tirare Noi e loro E in che maniera Però in che maniera Lo sviluppo Io nella mia testa C'ho Tutto un mio pensiero Però Credo che la gestione Del ritmo Sia veramente E Sassar insegna E hanno vinto 3-0 Io credo che da lì Bisogna prendere Grande spunto Sia dalle due nostre partite Non dico Dalla prima Persa Reggio Emilia Noi non eravamo ancora noi Eravamo una squadra Ancora in fase embrionale Non eravamo ancora costruiti Con una struttura reale Però le ultime due partite Le tre partite di Sassar Insegnano molto Di quello che si può Concedere a loro E quello che non si può Concedere Adesso dovremmo essere Molto bravi A selezionare Tutti gli aspetti Della gestione del ritmo Del numero dei palloni Da giocare Quando tirare In che secondi Questo credo che sia Molto importante E selezionare 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 Grazie.